Regole significa che si stabiliscono le regole, valgono per tutti. Significa, per esempio, che un governatore uscente di centrodestra, capace, come Nello Musumeci, che intenda ricandidarsi e non si manda a casa per fare rispetto a qualcuno perché magari è troppo vicino o troppo amico di Fratelli d'Italia, ma non per Fratelli d'Italia, per i cittadini siciliani che hanno creduto in lui e che non meritano di rivedere a Sicilia consegnata al malgoverno della sinistra per i dispetti.